Ciao ragazzi, ciao a tutti da Salvo di Vita, come potete benvenire oggi ci troviamo malmotta di Polinella, che ha il più vecchio per lo centro pubblico, all'interno dello Stato è vivo, possiamo trovare serietà, con personalità, con realità, e con musica tutti voi che do oggi, Facebook e Partners, quindi fammi entrare a far parte, sponsorialmente, del Salvo di Vita, come potete benvenire oggi ci troviamo malmotta di Polinella, Polinella, che non ha sbagliato sai, non esiste un uomo al mondo che non è...